ciao a tutti amiche e amici di quinta dimensione letture bentornati a tutti sul mio canale e benvenuto ai nuovi e chi mi ascolta per la prima volta quindi vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina cliccando su tutte per ricevere appunto la tutte quante le diciamo le notifiche di questo canale quando caricherò i video allora intanto ringrazio tutti quanti ovviamente di seguirmi sempre con affetto anche di quello che mi dite in privato veramente grazie 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 perché con molti di voi anzi moltissimi c'è un percorso di crescita che sto seguendo e sono veramente soddisfatta perché per me è davvero una missione è una cosa molto importante comunque far arrivare la divulgazione comunque dei messaggi e quindi grazie comunque e sono contenta ma io faccio semplicemente diciamo una divulgazione quindi non è comunque merito mio niente nel senso che metto solo a disposizione quello che dicono che io devo mettere a disposizione comunque le forze della luce gli esseri di luce che anche attraverso questo canale divulgano molto spesso dei messaggi vi fanno arrivare anche certi tipi di risposte come sincronicità perfetta sapete che siamo in un periodo ascensionale dove il nostro pianeta terra è già alla quinta dimensione è già asceso il pianeta terra stesso non tollererà più cose di terza dimensione perché troppo è stato fatto troppo è stato veramente martoriato questo pianeta da anni e anni or sono quindi comunque proprio dal 2012 che c'è questo tipo di diciamo di risalita finalmente verso una pulizia verso un'energia più pulita e alta appunto che si sta andando verso la quinta dimensione passando per la quarta e ovviamente in pianeta bisogno comunque di persone ascese di persone a cui è stata data eccezionalmente dove mai successo come ci dicono i nostri amici comunque di Lemuria che non è mai successo che ci è stata data a noi come popolazione come terrestri questa occasione questa opportunità di essere ancora in vita ma ascendendo alla quinta dimensione cosa che ancora non è stata cioè che non è stata mai possibile in passato no che pur essendo ancora vivi in un corpo fisico di poter invece trattenere dentro di noi tutta questa luce che ci viene spero abbiate letto il mio articolo sul mio sito quintadimensioneletture.it dove parlo della risonanza di schumann che io consulto quotidianamente proprio per vedere i tipi di energie che scendono sulla terra quelle di pulizia quelle di quinta dimensione dove spiego molto bene che cosa accade e anche perché in certi giorni ci sentiamo più così piuttosto che in un altro modo quando c'è un rilascio di energie di quinta dimensione va bene comunque sappiate guardate la copertina di questo canale la luce ha vinto quindi non c'è più spazio so che non sembra perché in realtà sembra che siamo invece proprio nella morsa del peggio del peggio del peggio in realtà non è così in realtà il buio comunque l'oscurità la battaglia l'ha già persa da tempo quindi mi raccomando a tutti quelli che sentono fortemente di continuare su questa strada di un percorso di crescita di mantenere costantemente coerentemente la propria scelta e quindi di lavorare per aumentare la propria vibrazione perché più persone vibrano ad una energia maggiore quindi partendo diciamo dalla quarta e salendo su verso altre vibrazioni più alte quarta e quinta dimensione perché aiutiamo veramente anche tutti quelli che comunque purtroppo o perché per una scelta d'anima si trovano comunque ancora incastrati in certi tipi di energie di terza dimensione comunque sia possiamo fare la differenza va bene allora oggi è un argomento molto importante molto interessante che si riallaccia chi non l'ha vista le vada a vedere le canalizzazioni dei nostri fratelli galattici e stellari famiglie galattiche la nostra famiglia di luce sia per quelli che sono comunque dei semi stellari che quindi hanno già diciamo una come dire origine proprio no a livello di diciamo extra pianeti quindi universale dell'universo ma anche per gli operatori di luce comunque anche se uno non è un semi stellare può essere comunque un operatore di luce che ha scelto coscientemente prima di incarnarsi su questa terra di essere appunto un operatore di luce quindi di riuscire a divulgare proprio per far uscire tutta l'umanità da questa oscurità da questo velo in cui cadiamo diciamo in cui siamo caduti perciò questo che vi voglio dire oggi sono due cose in realtà non è una sola sono dei protocolli appunto che ci vengono da canalizzazioni che vengono appunto dai nostri fratelli stellari va bene e sono due comandi si chiamano dei comandi che vengono dalla light force cioè sono le forze della luce appunto che però sono anche in terra cioè c'è anche una squadra di terra c'è una squadra che non è qui e una squadra di terra ma queste due squadre sono comunque in collaborazione va bene e non è nuova questa cosa c'è già diverso tempo che c'è ma ve la porto quando ve la devo portare va bene perché il canale è dovuto crescere prima di dover affrontare certe cose che so che vi devo dire ma non ve le dico subito ve le dico piano piano perché so che è il momento giusto come vedete e come potete capire io non programmo troppo i titoli perché sono molto ispirata quando è il momento quando c'è l'energia collettiva mi vengono proprio le canalizzazioni a me proprio quindi so quando devo dirvi certe cose e quando no ora vi devo dire questo non mi chiedete perché per come perché certe cose sono personali so che questo è il momento di dirvi questo oggi vi do due comandi in particolare che sono sempre e comunque riferite alla luce e sono per la vostra guarigione e non hanno alcun tipo di controindicazione quindi la paura che tra l'altro è un sentimento di terza dimensione non deve esistere o ci si crede o si ha piena fede e convinzione o non si deve fare va bene senza domande senza dubbi fede assoluta e convinzione allora il primo è un comando che viene appunto dalle forze di terra speciali della light force delle forze della luce che sono invece diciamo etere eteriche e sono nello spazio diciamo per formare un team diciamo no per la tua guarigione allora cosa fa questo comando questo comando va recitato tre volte esclusivamente a voce alta non è contemplato il discorso mentale un po come i decreti è ricordatevi questo team individuale lavorerà per te perché sapete che telepaticamente e l'energia non ha tempo e spazio sì lo dico migliaia di volte appena pronunciamo questa formula questo codice viene subito una squadra per te delle forze della luce che opererà a seconda di come è il tuo campo energetico in quel momento allora abbiamo questo che è uno il primo comando il secondo comando è più per una guarigione emotiva il secondo è anche un po più per il fisico diciamo no per una se vogliamo medicazione ma attenzione dico sempre prima il medico e poi il resto quindi attenzione a non fraintendere non è una un'equip medica di una sala operatoria di un ospedale italiano o comunque terrestre va bene quindi prima qualsiasi cosa avete controllate che non sia qualcosa di serio va bene tolto il fatto che non è una cosa seria per cui andare dal medico si procede con altre cose va bene questo è un comando proprio per chi cerca aiuto per chi vuole una guarigione è molto potente l'ho sperimentato anch'io ma è diverso tempo che gira e so che ha funzionato ed è proprio un aiuto dei nostri fratelli galattici e ci dice questo devi pronunciare questo attenzione devi pronunciare praticamente il comando 12 21 ad alta voce per tre volte e ogni volta che tu pronunci questo 12 21 una squadra di forze della luce controllerà la tua situazione quindi il tuo stato e farà tutto il necessario per farlo questo è anche nella condizione in cui ti trovi non solo fisica ma anche insomma di eventi che hai nella tua vita in quel momento se c'è un'emergenza di qualcosa magari che è successo ma comunque ti aiuterà proprio anche nella guarigione fisica a livello più che altro di quelli che sono i sintomi attenzione di quelli che sono i sintomi ascensionali va bene perché sono per molti tanto tanto dolorosi tanto pesanti allora quindi dobbiamo dire tre volte il comando 12 21 la prima volta che lo pronunci si attiva la squadra la seconda volta che lo pronunci la squadra arriva la terza volta che lo pronunci la squadra farà il suo intervento su di te dopo aver pronunciato dopo la terza volta il comando 12 21 ci si deve rilassare dai 20 ai 30 minuti quindi questo comando non va fatto da da seduti o quando si lavora si sta al computer questo comando esige una tua un tuo riposo ok quindi va benissimo anche prima di dormire volendo oppure se ti svegli in anticipo e sai che può rimanere a letto un'altra mezz'oretta lo fai anche al mattino ok però devi stare in uno stato semi veglia semi dormiente comunque disteso o distesa quindi pronunciamo tre volte questo comando 12 21 facendo un bel respiro all'inizio e un bel respiro ogni volta facendo passare qualche secondo dal primo al secondo al terzo comando cominciamo facciamo un bel respiro comando 12 21 comando 12 21 comando 12 21 dopo aver lanciato il terzo comando riposiamo 20 30 minuti e l'azione delle forze della luce opererà a seconda di come ti trova va bene questo è un aiuto potentissimo che ci viene dallo spazio ma in collaborazione con quelli che sono i nostri esseri vitali galattici che sono già su questa terra quindi questo era il primo il secondo è per una guarigione più a livello emotivo quindi un aiuto che ci viene proprio dalle loro tecnologie altissime ma anche il primo funziona così anche questo secondo funziona così per le dalle loro comunque tecnologie altissime appunto che hanno e che noi neanche ci sogniamo qua sulla terra neanche la nostra scienza più avanzata potrà mai arrivarci se non fra non so quando ma speriamo insomma il prima possibile allora per questa guarigione emotiva c'è un altro comando che va sempre recitato a voce alta tre volte e comunque una nave medica proveniente dalle pleiadi ci aiuterà con dei raggi curativi ok le pleiadi sono quella costellazione di quelle bellissime sette sorelle no pleione eccetera eccetera che ci aiuterà questa nave medica e anche qui dopo il terzo comando c'è da sdraiarsi va bene e lasciar riposare proprio ti devi sentire riposato quindi tutti i due comandi esigono un riposo diciamo una posizione distesa sdraiata potrebbe essere anche magari sul divano l'importante è che tu non devi fare niente per quei 20 30 minuti se non riposarti va bene questo protocollo di guarigione emotiva si deve pronunciare come te lo dico io non è come i codici sacri che puoi pronunciare che ne so 1 4 0 e 140 no questo è un comando 771 non è il comando 771 attenzione quindi lo pronunci come te lo dico io sempre un bel respiro prima e dopo ogni comando partiamo comando 771 comando 771 comando 771 comando 771 e rimaniamo 20 bar 30 minuti sdraiati riposati in contemplazione in meditazione o dormiamo proprio va bene lo stesso quindi non vi preoccupate di questo allora questi protocolli comandi che ci vengono dalle forze della luce dovevano arrivarvi ora in questo momento e indipendentemente dal fatto di quando io pubblico questo video qualsiasi giorno tu lo apri che mi stai ascoltando magari l'ho pubblicato un anno fa per te doveva arrivare quel giorno quindi non ti preoccupare non c'entra niente la data di pubblicazione di questo video vale sempre quando ti arriva va bene provatelo fatemi sapere così come stanno funzionando i decreti le parole magiche eccetera che metto su questo canale i mantra e tutte queste bellissime tecniche che condivido con voi di guarigione di sblocco delle energie perché dobbiamo capire che è tutta energia che va bloccata ok è tutto un velo è tutta un'illusione tutti questi problemi materiali che abbiamo dobbiamo cambiare il flusso energetico punto allora facciamo delle stese adesso dai miei oracoli canalizzati vi vedete questa questa tovaglietta qua che fa parte della mia collezione di medaglietti di quinta dimensione lettura di questo canale e questa richiama proprio i nostri oracoli i messaggi divini oracolo creato da me che molti hanno acquistato grazie mille so che vi sta aiutando moltissimo perché poi chi acquista rimane con me in contatto mi scrive mi dice qua mi dice là e quindi sono molto felice che stia rispondendo va bene ma d'altronde da una creazione fatta con la luce solo questo poteva accadere scusate ma lo dico allora appunto vediamo oggi con quattro stese che messaggio dai nostri fratelli galattici stellari ma anche dai nostri angeli ed esseri di luce ma oggi mi sento di prendere questo guardate chi è curioso di vedere le canalizzazioni dei proprio dei fratelli galattici vedete proprio sulla playlist di questo canale quinta dimensione lettura andiamo scegliete una stesa e vediamo qual è il messaggio per te oggi partiamo con la sfera gialla per il messaggio 1 la sfera arancione per il messaggio 2 la sfera verde per il messaggio 3 e la sfera rosa fucsia rosa per il messaggio 4 1 gialla 2 arancione 3 verde 4 rosa cosa c'è da dire qua sfera gialla sfera arancione sfera verde sfera fucsia rosa questi sono i messaggi dei miei oracoli canalizzati per te oggi che abbiamo parlato in particolare di questo argomento e vediamo cosa c'è per te da sapere quale consiglio dritta o messaggio deve arrivarti per sincronicità divina perfetta e non è mai sbagliata quando ti arriva vediamo chi ha scelto la sfera gialla gruppo 1 cosa c'è per te oggi di messaggio lascia andare dedicati a qualcosa che ti piace rilassati 666 perché hai dei pensieri fuori equilibrio e vai dentro di te la sfera gialla deve ritornare deve rientrare come si dice deve rientrare quindi qualsiasi cosa di terza dimensione ti stia tenendo agganciata o agganciato su questioni che sono solo illusorie materiali ok che fanno parte del velo di dimenticanza in cui cadiamo quando veniamo nella terza dimensione quindi sul pianeta terra che adesso comunque è asceso alla quinta dimensione ma tantissimi sono ancora in terza tantissimi quindi hai dei pensieri fuori equilibrio e qual è per te il messaggio oggi vai dentro di te quindi usa le tecniche su questo canale è pieno di tecniche recita l'io sono recita il manta di metatron va bene perché ti riportano se usi la fiamma viola per esempio ti riporta comunque una certa pulizia e trasmutazione di quelle che sono le cellule come dice il nostro maestro asceso san germen squalificate cioè le cellule che non stanno facendo il lavoro divino per cui sono state diciamo progettate tra virgolette nate con le quali nasciamo così quindi lascia andare staccati dai concetti di terza dimensione fai le cose che ti piacciono perché la vibrazione ti aumenta e fai del rilassamento quindi del lavoro personale va bene sfera gialla vai dentro di te vai dentro di te questo è un consiglio molto importante per te proseguiamo seconda sfera sfera arancione qual è il messaggio per te in questo momento la connessione con il regno angelico le tue guide molto forte 13 31 44 ti porterò gioia e tranquillità che bello allora qui chi ha scelto la seconda sfera la arancione ci dicono che ha molta connessione con gli angeli va bene ma anche le guide le nostre guide spirituali sapete che non c'è solo l'angelo custode ce ne sono diversi tra l'altro in certi momenti particolari della nostra vita ne compaiono altri va bene perché gli angeli collaborano tra di loro se c'è un particolare problema ok che è un lavoro più di pertinenza di un certo tipo di angelo piuttosto che di un altro interviene quell'angelo così funziona ecco perché dico molto spesso rivolgetevi al plurale ora non è che se al singolare sia sbagliato però rivolgetevi al plurale quando quando chiamate va bene perché c'è una squadra veramente per noi quindi in questo momento è molto forte quello che tu riesci a percepire magari lo capisci ma molti forse ancora no ma l'importante che ti è arrivato questo messaggio che ti sta dicendo che hai questa connessione molto importante che arriverà per testa per arrivare della gioia e della tranquillità non ti preoccupare quindi di questo perché sei connessa sei connesso ripeto anche se non ne sei cosciente e consapevole sappi che invece con il regno angelico e con le tue guide in questo momento c'è una forte connessione quindi attenzione anche ai messaggi a quello che ti viene fuori a quello che ti vogliono dire alle percezioni che ti possono arrivare alle cose che per caso tra virgolette che il caso non esiste ti compaiono davanti agli occhi facci caso perché le risposte arrivano non voglio sentire le frasi a meno rispondono a meno arrivano perché c'è qualcosa di sbagliato qui sempre rispondono gli esseri di luce perché sono in quinta dimensione in quinta dimensione non c'è la parola non ti rispondo cioè è proprio già il concetto stesso quindi fate attenzione voi che magari a percepire le risposte perché non è che non vi rispondono certo che rispondono sempre rispondono ma non li capiamo noi che è diverso va bene quindi cerchiamo di stare ben con queste antenne pronti e di fare del nostro meglio per capire le risposte va bene sfera arancione qui c'è c'è la connessione quindi facci caso e attenzione anche ai messaggi che ti arrivano io proseguo sfera verde chi ha scelto la sfera verde qual è il messaggio canalizzato che deve arrivare oggi le questioni lavorative ed economiche miglioreranno 722 772 otterrai quello che hai chiesto eccola la risposta per te quindi chi si trova in questo momento in una situazione lavorativa particolare e problematica ma anche nella situazione economica ti dicono qua che proprio queste questioni miglioreranno quindi non aver paura otterrai quello che hai chiesto chi ha chiesto qualcosa lo otterrà va bene 722 772 sono numeri particolari per te vatti a vedere anche i video la playlist dei numeri degli angeli che sto pubblicando ogni tanto una puntata dove ne metto un po' se ti compagno spesso dei numeri vai a vedere cosa sono e che cosa significano quindi qui preoccupazione zero deve finire perché migliorerà quindi se in questo momento ti trovi con problemi lavorativi ed economici ti hanno proprio risposto che stanno per migliorare anche se non l'hai chiesto perché i messaggi non sempre diciamo si devono chiedere a volte arrivano le risposte così molto spesso anzi non solo a volte perciò lavorativamente ed economicamente migliorerai sfera verde otterrai attenzione questa non sono parole forse domani vedremo qui c'è scritto otterrai quello che hai chiesto quindi così è va bene sappi che è risolto sappi che è fatto questa deve essere la cosa che devi pensare sempre e il tuo atteggiamento quando si chiede bisogna sapere che è fatto perché l'universo rimanda indietro quello che tu emani se tu hai mani un dubbio a me non funziona a me non mi riesce allora l'universo certamente rimanderà a te esattamente quello che tu hai detto va bene quindi è fatto è fatto è fatto questo bisogna dire anche se ancora nella terza dimensione non lo vediamo ma sappiamo benissimo che la terza dimensione è lenta è pesante è massiccia è illusoria quindi magari in quinta dimensione la cosa è già manifestata in terza no perciò noi cosa facciamo poi siccome non vediamo manifestato non ci crediamo invece non bisogna essere così chi è in quarta quinta dimensione deve fare un ragionamento comunque diverso ma lo farà perché sennò non sarebbe in quarta o quinta dimensione va bene sfera verde fiducia è otterrai quello che hai chiesto io vado avanti allora sfera rosa il messaggio per te qual è no così non va bene cambia il tuo modo di agire 600 660 pensieri ossessivi per la sfera rosa che dice di cambiare il modo di agire qua ti dicono proprio che devi cambiare qualcosa va bene questa ossessione che hai per qualcosa per qualcuno per una situazione è esattamente il motivo per cui non ti si sta realizzando è semplice il discorso in realtà va bene perciò non ostacolare tu stesso o tu stessa le cose mettiti da parte fatti da parte fai fluire l'energia come deve fluire il pensiero ossessivo ostacola essere eccessivamente ansiosi aspettare con l'orologio là quando accade questo ma perché questo qui ma perché quello là ma perché ancora no non fa altro che ritardare 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 allora qual è il consiglio qual è l'aiuto per lavorare con le energie lascia andare tu fai e lascia andare metti questo semino e lascia andare perché se tu stai con l'ansia sopra il vasetto a vedere se il semino fiorisce questo semino si sente capito insomma no della serie non mi guardare che mi vergogno cioè dalla serie non riesco se tu mi guardi va bene quindi i pensieri ossessivi se ne devono andare per ottenere i risultati la formula vincente è formulare e dimenticarsene fai un'altra cosa fai il decreto per l'abbondanza 520 4418 741 fallo e dimenticatene fai un'altra cosa non stare di con l'ossessione perché a me non mi funziona perché non è vero che non funziona funziona a tutti però a chi a quelli che se ne dimenticano a quelli che lo fanno sapendo che già funziona è fatto è fatto è fatto ecco perché a tanti funziona prima perché non si mettono lì con quell'ansia qua c'è da cambiare il modo di agire eh sfera rosa e già è buono che ti è arrivato questo messaggio così hai modo di correggere non ti preoccupare perché sbagliamo tutti non è un problema quello se tu riconosci di avere un certo una certa ansia una certa ossessione verso qualcosa qualcuno una situazione sappi che la cosa migliore è togliere questa ossessione e lasciare andare lasciare perdere dimenticare formula soluzioni positive credi che è già risolto e così sarà questa è la formula vincente va bene quindi hanno voluto avvertire proprio qua che attenzione mica un avvertimento insomma minaccioso è nel senso che ti stanno dicendo attenzione attenzione perché così se no ritardi il risultato è quello che tu vuoi ottenere si ritarda sempre di più e più ritarda più diventi ansioso e così funziona è un cane che si morde la coda più non otteniamo e più diventa il respiro affannoso e più diventa ossessivo ecco ecco perché ti dice così non va bene no perciò che cosa c'è da fare qua lasciare andare respira respira e lascia andare pensieri ossessivi devono sparire se si vogliono ottenere i risultati anche la fretta non va bene bisogna essere proprio fare e lasciare andare questa è la formula vincente va bene grazie mille a tutti di avermi seguito mi raccomando i comandi che vi ho dato delle forze della luce che sono veramente potenti riascoltatevi le istruzioni se qualcosa avvesse fuggito comunque sia ricordate sempre anche di leggere la testa descrizione del video dove metto sia il contenuto di quello che sto dicendo in quel video ma anche le informazioni su di me chi vuole parlare con me per le consulenze eccetera eccetera e tutti i servizi offerti da me nonché il sito web dove ci sono le canalizzazioni i contenuti di crescita vi ringrazio anche per tutti quelli che vanno a leggere là che hanno bisogno proprio fame di conoscenza sono felicissima di contribuire anche a questo tipo di divulgazione perché è una missione se non si è capito allora che dirvi amici e amiche io vi ringrazio moltissimo spero sempre che questi contenuti siano graditi e piaciuti perché sono contenta anche dei vostri feedback grazie a chi scrive mi sta funzionando quello sono cresciuta sono cresciuto con questa cosa grazie mille della vostra testimonianza il vostro affetto mi fa solo che piacere e mi sprona a continuare verso questa strada e sono felicissima che a tanti come dite voi stessi mi sia aperto un mondo come mi scrivete spessissimo io veramente ho i brividi e l'emozione per tutto questo vi ringrazio moltissimo vi mando un grandissimo abbraccio continuate a lavorare su voi stessi e vi aspetto presto qua su quinta dimensione letture per un nuovo interattivo con me ciao a tutti e grazie mille